Sabato 10 marzo i termini per assolvere l'obbligo vaccinale per i figli iscritti agli asili nido nelle scuole materne e dell'obbligo scade. Per i piccoli di nido e infanzia il rispetto della legge costituisce condizione necessaria e vincolante per accedere al servizio, mentre per le scuole dell'obbligo è prevista invece una sanzione amministrativa. Su questo punto la giunta comunale di Rosà ha espresso il suo appoggio e sostegno alla decisione presa all'unanimità dalla conferenza dei sindaci dell'Ulss 7 Pede Montana per chiedere al Parlamento una proroga. Non siamo contrari ai vaccini anzi spiega il sindaco Bordignon ma l'imposizione all'obbligatorietà fissata in questa prassi. Il Veneto in questi anni si è mosso con costanza ed attenzione con precise campagne informative e questa scelta ha dato ragione. Lo stesso abbiamo fatto anche a Rosà. Molte famiglie si sono rivolte a noi amministratori per chiedere una proroga, precisa Bordignon che aggiunge per far terminare l'anno scolastico ai piccoli della materna e dell'asilo. Una proroga votata da tutti i sindaci dell'Ulss 7 e che ha trovato in giunta ora il totale appoggio.